Come si può misurare in modo avanzato il processo di invecchiamento? Benvenuti, sono il dottor Claudio Tomella, medico, nutrizionista, specialista in medicina anti-aging e oggi mi trovo proprio a Lisbona dove sono stato speaker, relatore al summit internazionale di medicina anti-aging che si è tenuto qui e oggi rispondo a questa interessante domanda. Ecco io sono molto entusiasta in qualche modo di parlare di questo aspetto perché farò riferimento ad alcuni esami che diciamo così studiano delle vie metaboliche che fino a pochi anni fa io studiavo sui libri quando venivo a questi congressi come questi e per me erano qualcosa di assolutamente, non dico teorico ma un qualcosa che erano test che venivano fatti nelle università quasi sempre straniere magari da italiani ma in università straniere un qualcosa di assolutamente sperimentale anche teorico molto affascinante, molto preciso, molto difficile anche da capire devo dire la verità però era un qualcosa che era distaccato dalla pratica clinica ecco ci tengo a sottolineare il fatto che è vero io vengo in questi congressi dove faccio relatore però sono un medico anti-aging che cerca di affiancare questa parte di studio, di ricerca a quella clinica di lavoro sui pazienti e quindi per me è importante avere in mano la situazione da tutti e due i punti di vista. Ecco cosa vi voglio dire che adesso per esempio è possibile applicare nella pratica clinica nell'ambito di un percorso anti-aging anche lo studio di alcuni processi di invecchiamento aree del processo di invecchiamento che fino a poco tempo fa appunto non venivano studiate ma sono importanti per esempio valutare qual è il livello di NRF2 una via metabolica protettiva quindi buona nel processo di invecchiamento che evidenzia un buon livello di difese antiossidanti quindi la tendenza ad avere buone difese antiossidanti può essere studiato per quanto riguarda lo stress ossidativo mitocondriale questo in realtà da più tempo nelle urine l'8 idrossi 2 guanosina deossidata quindi questo è un indicatore dello stress ossidativo del DNA naturalmente può essere studiato il DRONTEST oltre al BAPTEST quindi lo stress ossidativo può essere studiato in maniera tecnica io utilizzo un po' di più la 8 deossi guanosina perché è un qualcosa di più tecnico e di più specifico può essere studiato il BDNF assolutamente importante sia a livello genetico ma anche a livello fenotipico il BDNF che è un'azione protettiva sul cervello e quindi è utile sapere questo nell'ambito di un approccio a 360 gradi sulla healthy aging può essere studiato il Cloutot che è un peptide che si associa a un invecchiamento favorevole sia a livello renale ma si è visto anche a livello complessivo e inoltre si sta mettendo in piedi uno studio anche per studiare il FOXO che abbiamo visto è un'altra via assolutamente protettiva importante per quanto riguarda l'invecchiamento cellulare il sistema immunitario e la protezione dei tumori questo per dire che studiando come è nell'ambito di un percorso anti-aging come sono questi valori si riesce a individuare una terapia di precisione e a sapere in modo oggettivo come sta andando il proprio processo di invecchiamento quindi questi test non vanno oltre non si sostituiscono agli altri quindi è sempre importante magari fare uno studio a livello dei teromeri uno studio naturalmente degli esami ormonali per verificare com'è a livello dei principali markers tumorali nonché fare uno studio genotipico piuttosto che del microbiota però anche questi nuovi esami come le NRF2, BDNF, l'ottoidrossimiguanosina ossidata sono sicuramente da fare rentare in un vero pacchetto anti-aging per sapere di più visionate il mio sito www.tomella.it